il testo è tratto dal libro quaderni del 1943 di maria valtorta edito dal centro editoriale valtortiano 6 luglio 1943 in attesa che parli gesù parlo io per chiarire alcuni punti avrà notato che in data 28 giugno vi è una preghiera al santissimo sangue però mentre gesù si lamenta che troppo poco sia venerato il suo sangue non impone prepotentemente che quella preghiera sia fatta conoscere mentre quella del 4 giugno in riparazione a gesù sacramentato non mi dette tregua fin tanto che io gliela mandai gesù mi fa capire che va molto detta questa preghiera e personalmente me la fa dire con la frase dettata da lui per mano di satana mi spiace disubbidire al censore ecclesiastico ma fra lui e il maestro scelgo il maestro già anche volessi fare diverso non mi riuscirebbe come mi spiace dovere dire che non conosco chi ha scritto quella preghiera o se lo conosco ma egli si nasconde dietro l'anonimo ci dà una formula perfetta nella sua concisione completa quale solo egli la poteva fare chiede che sia detta e basta sì che io ai lontani di qui dico che fu scritta da una inferma scritta è formula molto ampia io posso scrivere la divina commedia se mi ci metto con pazienza ma non sono certo io che l'ho composta ugualmente ora io l'ho scritta e lui l'ha composta ma ai vicini che potrebbero chiedere dove sta questa inferma dico non so chi ha scritto quella preghiera se dicessi l'ho scritta io ne avrei lodi che sarebbero ingiuste se dicessi chi l'ha dettata la gente crederebbe in due forme diverse di una pazienza la subirei pensando a gesù chiamato pazzo ma l'altra non voglio sia detta perché se gesù si curva vero samaritano pietoso sulla mia anima che è tutta uno strappo ciò è prova della sua infinita misericordia e non di merito da parte mia sento con la medesima esattezza che se l'avessi già vissuto e se la superbia entrasse in me tutto finirebbe glielo dicevo stamane è una mia persuasione personale e il superbia uccide tutte le virtù la carità per prima conduce quindi con sé la perdita della luce di dio il superbo mi spiega gesù non tratta con santo rispetto il buon padre dei cieli non ha viscere di misericordia per i fratelli si crede superiore alle debolezze della carne e alle regole della legge pecca perciò continuamente e dello stesso peccato che fu causa della rovina di lucifero prima da damo e della progenie da damo poi ma soprattutto uccide la carità distrugge perciò l'unione con dio a proposito di carità la prego insistere caldamente su questo soggetto presso le suore dell'ospedale è comprensibile e scusabile che siano stanche indaffarate nervose sempre chiamate richiamate come sono da malati esigenti e sovente ingrati ma vestono l'assisa della carità della carità attiva e della più santa attività hanno fra le mani anime che soffrono in corpi sofferenti anime che delle volte incontrano il volto di dio nelle sue serve proprio nelle corsie dell'ospedale anime che possono essere prossimi ad incontrarsi col dio eterno nel giudizio particolare oh quanta responsabilità ha chi cura un infermo può col suo modo di fare impedire il contatto l'incontro fra due che almeno da parte di uno si erano cercati senza potersi incontrare il dolore è molto di frequente catena scintilla calamita fra il dio e la creatura ma quando e quanto più la creatura non conosce il dio bisogna saper sfruttare il mezzo malattia con tanto infinito di carità per ottenere che l'anima vada dove gesù l'attira al suo cuore amabile e non ne fugga scandalizzata portata scettica perché vede che una serva di gesù è un mazzo di tiche invece d'essere un vellutato mazzo di violette altri malati possono essere cattolici tiepidi ma come si possono accendere se sono circondati da cuori che sotto la infiammata insegna della croce sono gelidi come carne morta consegnare anime a gesù prendere queste povere anime che la vita getta sulle dolorose spiagge di un ospedale come tanti naufraghi feriti e disperati e raccoglierle con amore curarle calmarle infondere le tre sublimi virtù teologali le altre suavissime virtù cardinali condurle verso la luce fare sì che nella vita se superano la malattia nella morte se l'ora della morte è venuta e se se ne vadano fuori dal nosocomio o dalla vita con nell'anima accesa dalla pietosa sorella infermiera la luce che non muore se è grande responsabilità essere madrine di battesimo quale responsabilità è mai questa delle madrine del dolore della morte sono stata infermiera e so e compatisco ma non tutti lo sono stati perché scandalizzare far fare mormorazioni ferire le anime chiuderle nell'ora che dovrebbero più stare aperte perché si colpiscono con dell'anticarità mi scusi e mi scusino le suore ma per pietà di esse che dovranno rispondere per esse stesse per le anime assistite al giudice eterno ma per pietà di chi soffre nel corpo e ha tanto bisogno di luce nell'anima mi raccomando di insistere sulla carità che ci fa serve pronte come diceva il nostro motto di infermiere samaritani dalla carità viene alla infermiera la pazienza la calma il sorriso così utile presso chi soffre e così eroico viene tutto in questa vita e viene il bacio di cristo nell'altra delle volte anche in questa quel bacio che è passaporto per il regno di dio riguardo alla sua malata da 14 anni inferma pregherò per lei soffrendo sarò felice se il mio dolore le otterrà la visione del nostro divino e dolce gesù è sorda e muta ma fosse anche cieca gesù potrebbe sempre brillare nelle sue tenebre e parlare ai suoi timpani spenti basterebbe si svelasse un attimo dopo non si può più uscire dal suo solco di luce pregherò molto per questa paralizzata nelle membra come prego per le altre anime che lei dirige e che sono più o meno appesantite nello spirito vorrei molto soffrire per salire a dio trascinandomi dietro come volo d'angeli una vera tribù di anime non ho paura di soffrire troppo perché soffro per fare piacere a gesù ed ora grazie della sorpresa proprio inaspettata avevo domenica fatto un vero sacrificio rispingendo la tentazione di comprare un libro la vita di giovanni maria vianney che mi avevano data a leggere ma vede come è buono il signore quando io contemplo la sua divina bontà mi salgono le lacrime agli occhi perché io in tutto quello che ricevo vedo gesù è la mano di gesù che mi dà questo o quello una sensazione così viva per cui dico prima grazie a gesù e poi al pietoso che ispirato da gesù dà un conforto alla povera maria gesù sta come uno schermo fra me e il mondo ed io lo vedo sovrapporsi a tutto e a tutti perciò grazie padre d'aver seguito l'ispirazione di gesù e avermi comincia a parlare gesù e taccio io dice gesù l'avermi visto cessare di soffrire nella carne fu un sollievo per mia madre ma non fu l'allegrizza vedeva non più spasimare la carne del figlio sapeva che l'orrore del deicidio materiale era finito ma nella piena di grazia vi era anche la conoscenza dei secoli a venire in cui torme incalcolabili di uomini avrebbero continuato a ferire spiritualmente il figlio suo ed era sola il deicidio non è finito sul golgota nell'ora della mia morte esso si ripete ogni qual volta un mio redento uccide la sua anima sconsacra il tempio vivo del suo spirito leva la mente sacrilega a bestemmiare me non solo con il turpiloquio osceno ma con mille maniere del vivere attuale sempre più contrario alla mia legge e sempre più neutralizzante i meriti incalcolabili della mia passione e morte maria corredentrice eccelsa non cessa di soffrire come non cesso io nella gloria intangibile dei cieli noi si soffre per gli uomini che ci rinnegano e ci offendono maria è l'eterna puerpera che vi dà alla luce con un dolore senza pari perché sa che quel dolore genera non beati al cielo ma nella maggior parte dannati all'inferno sa che genera creature morte o destinati a morire fra breve morte perché su certe creature il mio sangue non penetra come fossero di durissimo diaspro dalla più giovane età uccidono se stesse o destinate a morire fra breve ossia coloro che dopo una larva di vitalità cristiana soccombono sotto la loro inerzia che niente scuote può maria non soffrire di vedere perire le sue creature che costano il sangue del figlio il sangue sparso per tutti e che giova così pochi quando il tempo cesserà d'essere allora maria cesserà di soffrire perché il numero dei beati sarà compiuto e la avrà generato con dolore inenarrabile il corpo che non muore di cui il suo primogenito è il capo se considerate questo potete ben capire come il dolore di maria fu sommo dolore potete capire come grande nel concepimento immacolato grande nella gloriosa sua assunzione maria fu grandissima nel ciclo della mia passione ossia dalla sera della cena all'alba della resurrezione allora ella fu il secondo in numero e potenza il secondo cristo e mentre il cielo si oscurava sulla tragedia compiuta e si squarciava il velo del tempio i nostri cuori si squarciarono d'uguale ferita vedendo il numero immisurabile per cui la passione fu inutile tutto compiuto in quell'ora del sacrificio materiale tutto da iniziare in rapporto del cammino delle genti nel solco della chiesa nella matrice della madre vergine per dare alla luce gli abitanti della gerusalemme che non muore e per iniziarsi con quell'impronta di croce che tutto quanto è fatto per il cielo deve portare si iniziò nel dolore della solitudine era l'ora delle tenebre chiusi i il figlio nella morte maria sola iniziava il suo secondo mistico concepimento e adesso finisco io dicevo dunque grazie padre d'avere seguito l'ispirazione di gesù e di avermi dato modo di rileggere la vita del curato d'ars mi piace molto perché fu un'anima vittima riguardo a me sto nel mio soffrire placida come un bimbo nella cuna e un uccellino sotto l'ala materna il mio sole mi tiene funzione di vita di antidolore di tutto mi tengo sotto il suo raggiare e sono felice ha mai osservato i colombi quando possono farlo si accoccolano al sole aprono le aluce le alzano attorno per farsi baciare dal sole sotto le ali alzano il capino e guardano con palese soddisfazione direi quasi con animale beatitudine il sole d'oro sono felici di farsi riscaldare da esso né si sa come possano resistere tanto tempo sotto il raggio di fuoco che scende a perpendicolo dall'astro su di loro io sembro una colombella sotto al sole sto lì fissa fissa e non mi muovo lieta di sentirmi invadere struggere dal suo fuoco con la speranza d'essere presto consumata attirata a lui oh il mio sole come dice lei tanto bene dovrebbe un altro provare ciò che provo per capirlo io mi sforzo inutilmente a spiegare come è quella luce pace maestà scienza bellezza no non si può dire cosa sia per l'anima questo inistinguibile inesprimibile lettificante splendore io mi sforzo inutile